Eccoci all'appuntamento per le previsioni del fine settimana. Correnti occidentali atlantiche interessano l'area alpina e anche il nord Italia. Da ciò sulla nostra regione nel fine settimana una prevalenza di correnti sud occidentali nei bassi strati che in questo caso sono decisamente umide, mentre in quota non ci sono dei fronti ben definiti. La giornata di domani con cielo in prevalenza coperto sulla regione, piogge da deboli a moderate, più frequenti e consistenti sulle zone orientali e sulle prealpi giuglie, mentre sulle zone occidentali saranno più estemporanee. Tanta umidità nell'aria, specialmente sulla pianura e sulle zone orientali, ma anche sulla fascia prealpina si sentirà l'umidità. Temperature massime intorno ai 23-24 gradi. Per domenica la possibilità di qualche schiarita sulle zone occidentali e anche sulla costa in un contesto ancora di atmosfera piuttosto umida. Cielo in prevalenza coperto sulle prealpi giuglie e verso il Cividalese, dove il sud ovest diciamo mantiene una copertura consistente. Possibilità ancora di qualche pioggia, specie appunto su queste zone delle prealpi giuglie e sulle colline orientali. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, nuvolosità variabile, ci sono ancora correnti sud occidentali che determinano tempo incerto, la possibilità ancora di piogge sparse sulla zona orientale della regione. Temperature ancora relativamente miti, intorno ai 23-24 gradi, le massime, minime, intorno ai 16-17 in pianura e sui 20 lungo la costa. Dall'Osservatorio Meteor Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.